Ben ritrovati con la rassegna stampa di ETV Marche, buongiorno ETV in onda 7 su 7 sul canale 12 del Digitale Terrestre e poi naturalmente anche sulla nostra app sul nostro sito www.etvmarche.it sulla nostra pagina Facebook. Andiamo con gli approfondimenti delle notizie e iniziamo davvero a vedere di che cosa ci siamo occupati sul nostro sito www.etvmarche.it partendo dai principali fatti di cronaca. Hai noi un frontale tra auto, uno ha preso fuoco e è accaduto a Montemarciano con l'automobilista che è rimasto incastrato, analoga situazione di quello che era accaduto invece nell'Interland senigalliese con l'ultraleggero, il velivolo che è precipitato al suolo nel gretto del fiume Cesano con due uomini salvi per miracolo. Uno appunto era rimasto incastrato all'interno delle lamiere, è riuscito però ad uscirne vivo da solo e di fatto illeso, un altro uomo di circa 70 anni è stato portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso ma sarebbe rimasto sempre cosciente. Poi invece cambiamo provincia, siamo ad Amandola dove il nuovo ospedale sarà operativo entro la primavera del 2024, le rassicurazioni che sono arrivate anche dal sindaco e poi per quanto riguarda le infrastrutture regionali dopo la parte nord e i sopralluoghi da parte dell'assessore di riferimento Baldelli arrivano i contributi anche per le strade del centro-sud delle Marche oltre 3 milioni di euro per andare appunto ad intervenire sulle strade. Poi il sisma perché oggi 9 novembre ricorre questo anniversario ovvero dell'anno appunto dai fatti che hanno interessato il capoluogo, Pesaro, Fano, queste le città più colpite ma i danni agli edifici ci sono stati soprattutto ad Ancona dove ne risultano ancora 60 coinvolti, 131 persone costrette fuori casa, 750 complessivamente interessate da quelle due scosse 5.5, 5.2, erano le 7.07 del mattino e tutti appunto ricordiamo con dispiacere quanto accaduto, è vero che non ci sono stati feriti e vittime e questa sicuramente dinanzi ad un'emergenza è la notizia più positiva ma ci sono state conseguenze e c'è un'onda lunga a tutt'oggi per tante persone che sono costrette a convivere delle difficoltà, lo approfondiremo nel corso della nostra mattinata insieme lo approfondiremo nel corso della serata perché ricordo anche gli appuntamenti, alle 21 Sibilla le voci della ricostruzione con una puntata di fatto monografica dalla nostra Linda Cittadini a seguire Maurizio Socci che tornerà con il suo talk show Punti di Vista sempre più seguito passiamo al meteo, ce lo state chiedendo anche attraverso i vostri messaggi, attraverso la nostra pagina Facebook giovedì la pressione è stabile tendenzialmente sulla nostra regione pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale temperature massime fino a 18 gradi, valori notturni in diminuzione mentre per domani invece qualcosa potrebbe cambiare ma non molto, almeno secondo le previsioni e secondo gli ultimi bollettini dorsale appenninica protegge la regione dalle precipitazioni anche domani sembra che il cielo sarà sereno o comunque poco nuvoloso staremo a vedere le temperature massime fino a 19 gradi dunque addirittura in leggero aumento, valori notturni stazionari venti dallo scirocco al ponente la panoramica del meteo ed ora invece andiamo a vedere quali sono i principali fatti oggi in edicola pubblicati sui due quotidiani Corriere Adriatico e Resto del Carlino partiamo a rimbalzo come mi piace fare tra i due giornali e lo facciamo con il Corriere partiamo dalla penisola che è la priorità per il porto questo è il punto di vista del presidente degli industriali Bocchini, Confindustria Ancona individua l'opera più importante, il porto servono le risorse, esplorerei il project financing dice appunto il numero uno di Confindustria le associazioni di categoria chiedono fatti concreti sta per sbarcare Amazon alla Coppetella quindi a Iesi, zona interporto per lo scalo questo è un momento storico più il porto dunque dove bisogna intervenire secondo Bocchini ancora che rispetto alle altre infrastrutture perché il porto rappresenta probabilmente la principale infrastruttura almeno per traffici, merci e cargo quindi naturalmente per tutto quello che riguarda il comparto più col diretto per Amazon collegato con il colosso dell'e-commerce ma anche per il traffico e il flusso dei passeggeri poi la notizia nel taglio centrale con la fotonotizia e la tragedia sfiorata a tre castelli si salvano in due un ultraleggero è precipitato le due persone sono miracolate lo abbiamo detto e ripetuto dall'altra parte i comuni virtuosi pensate i cinque capoluoghi di provincia sono quelli che riescono ad attuare meglio i cantieri legati al piano nazionale di ripresa e resilienza altro che il libro dei sogni dicono i sindaci in questo caso di Macerata Ascoli e Fermo dall'altra parte invece per Pesaro e Ancona hanno parlato i due assessori ai lavori pubblici potete approfondire all'interno del Corriere Adriatico siamo invece alla cronaca con questa accusa ha picchiato la moglie con scopa e mestolo e l'ha anche vessata con degli insulti gravi ad esempio muori, minacce, non solo è stato condannato invece ad Ancona un branco di cinghiale ha invaso la strada Centauro è volato dalla moto e poi a Falconara Bracca la ex al lavoro e poi sotto casa viene arrestato lo stalker dicevamo di una rapina che si è verificata in via Torresi shock per una ragazzina giovanissima a 15 anni che è stata raggiunta fuori da un supermercato e le è stato puntato contro un coltello pensate fuori i soldi le hanno portato via appena 15 euro era una persona già nota alle forze dell'ordine l'uomo è stato rintracciato in piazza Ugo Bassi ed è stato denunciato complimenti alle forze dell'ordine per la solerzia e la prontezza di intervento in questo caso una colf infedele ruba in due case gioielli e tablet è stata denunciata notizia che invece arriva dal fabrianese vi porto all'edizione di Ancona del Carlino si torna a parlare della via per Umberti il sindaco Daniele Silvetti dice sì e di fatto approva la proposta del Carlino e di Tom Tatuto Maso Buglioni si tratta di un pezzo di storia cittadina per chi non lo conoscesse io per ovvi motivi anagrafici non ho avuto modo di conoscerlo ma comunque ho conosciuto i suoi racconti che si tramandano da generazioni era uno storico senza dimora passatemi il termine stanziale ad Ancona perché di fatto era quello il suo centro di gravità permanente e tutti lo conoscevano anche per i suoi modi tutto sommato eleganti non troppo insistenti ma comunque se avete voglia di commentare e di ricordare anche quello che vi lega a questo personaggio che ha fatto la storia della città fateci sapere in questo caso si sta pensando addirittura ad una strada un'intitolazione ad hoc per Umberti e poi sotto si parla ancora dell'ultraleggero precipitato la foto la stessa che viene utilizzata e tanta cronaca la paura in via torresi nelle notizie di spalla coltella alla gola ragazza rapinata da due balordi che sono stati subito fermati ecco perché prima stavo facendo riferimento a più persone in realtà c'è questa discrepanza di sicuro chi ha compiuto questo brutto gesto subito da condannare nei confronti di questa povera ragazzina sono stati fermati dalla giustizia e poi tormenta la ex giovane arrestato per Stolking l'ha aspettata sotto casa a Filotrano estorsione a uno studente giovanissimo un diciottenne finisce in carcere poi c'è questa news della quale ancora non abbiamo approfondito ma lo facciamo subito all'Ancisi per la prima volta in Italia c'è stata un'operazione salva cuore da record perché che cosa è accaduto è stato colpito da infarto quest'uomo i medici lo hanno fatto pedalare e camminare prima dell'intervento è una notizia che già sta diventando stamattina di dominio nazionale perché appunto si è utilizzata questa tecnica assolutamente innovativa con un'operazione appunto salva cuore da record all'Ancisi di Ancona vi porto ad Ascoli l'edizione del Corriere Adriatico Duomo quando il tetto è da rifare al via i lavori per la messa in sicurezza si procederà per step ma la cattedrale resterà chiusa per un mese la cripta del patrono Sant'Emilio rimarrà invece accessibile valser di sacerdoti nelle diocesi fondi alle parrocchie si fa anche un quadro a tutto tonno per quanto riguarda la situazione delle chiese nel Piceno poi sotto la street art per abbellire Monticelli murales al parcheggio di Porta Torricella arrivano i Writers che in questo caso sono legittimati ad utilizzare la loro splendida arte le loro bombolette le loro tecniche tutto quello che possono utilizzare appunto su pareti messe a disposizione evidentemente per riqualificare una zona poi sotto le notizie di cronaca in regione femminicidi abusi in un caso su tre l'orco è il marito emerge questo dalla regione Marche in questo caso siamo nel Piceno poi a Grotta a Mare si parla di turismo e dati regionali che sono sballati in merito all'affluenza quindi al cosiddetto incoming che è il flusso di turisti che arrivano dall'estero ma in generale anche dall'Italia quelli che accogliamo nella nostra regione un danno all'immagine del Piceno e poi i ristoranti meno cari 9 milioni di contatti per il Vademecum qui sempre ad Ascoli dalla città di San Benedetto invece arriva questa news 10 telecamere in città per monitorare il traffico piano della mobilità per i prossimi 10 anni primo passaggio in commissione urbanistica intanto appunto si inizia a monitorare una nuova forma di di abilità andiamo invece al Carlino sempre l'edizione del Piceno in questo caso di Ascoli la richiesta di mano d'opera l'expo del lavoro si cerca personale anche di primo impiego quindi persone che non sono state ancora occupate e per questo le aziende sono a stretto contatto con le scuole per quanto riguarda il clima pazzo di questi giorni soffre anche il vino novello pensate è stata una stagione davvero difficile quasi drammatica hanno detto i produttori mai visto un anno così uva dimezzata per le piogge intense ma anche per le ondate di calore e per i parassiti praticamente tutto quello che di peggio poteva accadere è accaduto in un solo anno e speriamo anche che sia l'unico per questo comparto quasi superficiale ricordarlo di assoluta eccellenza per quanto riguarda la nostra straordinaria regione Marchi il parco inclusivo a Monteprandone aperto il cantiere per l'area dedicata anche ai bimbi con disabilità che potranno giocare tranquillamente assieme a coetane in una struttura finalmente sicura accogliente appunto e davvero senza barriere bella questa news che vi ho voluto riportare e con la quale il Carlino di Ascoli apre e la pone nel taglio centrale del giornale la cronaca giudiziaria il processo prostituzione in aula parla una delle schiave tra virgolette della bonifica ricorderete questo caso di cronaca a Rengo Nardini fanno da soli giunta chiusa al confronto le opposizioni vanno all'attacco siamo ad Ascoli San Benedetto invece la prima pietra per la nuova lega navale base nautica in banchina cerimonia al porto tra soci pescatori e appassionati un buongiorno a tutti voi che ci state seguendo anche con i vostri messaggi potete continuare ad interagire al 349 3918 169 se volete proporci i vostri temi gli argomenti che vi stanno più a cuore io invece voglio portarvi sul Corriere Adriatico l'edizione di Fermo lo faccio subito con questo titolo la nuova vita per l'ex mercato svelati i dettagli del progetto di rilancio della struttura con l'ITS spazio a uffici laboratori aule primo lotto è di fatto già pronta la seconda parte dei lavori terminerà entro il 2024 spinta sull'agri-food che continua ad essere un settore sempre trainante per il Fermano ma non solo la fondazione Cari Fermo dona 25 televisori siamo alla solidarietà e alla beneficenza nei confronti delle strutture sanitarie in questo caso dell'ospedale Murri potenziata la nefrologia ci fanno sapere appunto dal corriere adriatico di Fermo poi sotto notizie in ordine sparso partiamo dalla scuola di Molini a Fermo partito il cantiere la svolta è green a Porto San Giorgio fiera d'autunno e Natale fioccano gli eventi in centro dunque anche in Riviera si inizia a ragionare su tutto quello che riguarda la stagione definiamola così più attesa dai più piccoli e poi invece i dati venditi di Tolls una notizia che interessa l'economia e l'azienda in questo caso lo storico gruppo per quanto riguarda la famiglia della Valle crescita a doppia cifra pensate risultati ok per la pelletteria vola Roger Vivier della Valle premiata la qualità dei prodotti e questa è una news che vi ho mostrato dal Carlino scusate dal Corriere di Fermo qui invece siamo al Carlino di Fermo eccoci qua partiamo dalla news che ci ha legato tra i due quotidiani l'abbigliamento invernale vittima di cambiamenti climatici pensate quadrini fatturato crollato di là si parlava del gruppo Tolls che a livello di azienda va quasi in doppia cifra e invece in questo caso pensate i cambiamenti climatici anche all'origine delle difficoltà per quanto concerne il comparto di chi vende gli abbigliamenti invernali e questo è chiaro perché se le temperature restano alte difficilmente le persone vanno a comprare abbigliamenti più pesanti casa di Zoe video shock nel processo il gestore accusato di maltrattamenti e violenza su minori ieri la prima udienza parenti delle vittime in aula poi sotto si parla della donazione per l'emodialisi ecco 25 televisori e cuffie per chi si sottopone alla terapia l'ospedale Murri ora è più confortevole in arrivo anche due nuovi medici questo è stato possibile grazie alla fondazione Carifermo che ha aiutato il reparto del Murri poi scendiamo in riviera a tre archi una nuova operazione uno spacciatore finisce di nuovo in manette un nuovo blitz quindi da parte delle forze dell'ordine purtroppo sempre in quella zona che finisce nell'occhio del ciclone e balza ai noi agli onori delle cronache fermo arretrare l'autostrada gli imprenditori lanciano l'appello insomma una indicazione piuttosto chiara che arriva dagli imprenditori del Fermano che chiedono appunto di spostare più indietro e a questo caso arretrare l'autostrada soprattutto in quel tratto dove si crea il cronico imbuto perché le corsie diventano diciamo dimezzate dalle tre che ci sono più a nord perché in alcuni casi si procede anche ad una sola corsia lo sappiamo molto bene per quelli che sono diretti al sud della nostra regione ma comunque dovrebbero essere arrivate delle garanzie da parte del ministro Salvini lo vedremo magari tra un attimo se ci rimane tempo per quanto riguarda un approfondimento anzi visto che ci siamo e stiamo parlando di cronaca lo voglio far subito perché si parlava di infrastrutture e mi sembra importante farlo vedere ai nostri amici del Fermano eccola qua a 14 lavori finiti in due anni ecco la promessa di Salvini il ministro delle infrastrutture aggiorna alla camera sulla situazione dei cantieri annuncia lo studio di fattibilità per l'ampliamento a sud di Porto Sant'Elpidio questo è l'intervento di Salvini speriamo davvero tutti che possa essere una buona notizia e che possa essere confermata anche dai fatti perché francamente di là gli imprenditori dicono arretriamo perché veramente non se ne può più e in questo caso i lavori finiti in due anni speriamo davvero sia la volta buona vi porto al Corriere Adriatico edizione di Macerata perché per l'ospedale c'è il bando pronto entro l'anno la gara per affidare la progettazione tecnica economica ma la strada è ancora lunga l'iter insomma non si arresterà qua il successivo step è l'esproprio dell'area per la struttura attuale resta il nodo della manutenzione poi sotto si parla di commercio vediamo come verrà colto questo spunto la proposta dei commercianti per Natale la ZTL in centro nei weekend che ne pensate può essere anche estesa e replicate in altre città delle marche fatecelo sapere 349 39 18 169 dicevo la ZTL quindi la zona traffico limitata può essere una soluzione positiva perché si perché no sicuramente qui siamo a Macerata ve la mostro nel dettaglio questa news dalle 17 alle 20 nei weekend domani una riunione in comune il presidente romano solo dall'8 dicembre al 6 gennaio questo può essere un modo per rendere il centro delle città più piacevole nei festivi e nei prefestivi e dunque senza macchine più pedoni che possono fare compere in maniera ovviamente tranquilla e senza l'assillo la paura di dover schivare e andare a zigzag tra i veicoli sempre a proposito di viabilità so sta a pagamento la Lega ora vuole vederci più chiaro siamo a Civitanova e siamo anche alla cronaca estorsione a uno studente arrestati due diciottenni serie di minacce per farsi consegnare 550 euro alla fine la vittima ha raccontato tutto ai suoi genitori questo è accaduto a cingoli poi tre imputati condannati per spaccio di cocaina vi porto sul Carlino edizione di Macerata gli operai ottengono TFR un'altra notizia di cronaca giudiziaria non solo il trattamento di fine lavoro ma anche gli arretrati sono oltre 150 dipendenti del gruppo Mondial Pol di Porto Recanati buone notizie da parte del giudice sono riusciti appunto a prendere quanto gli aspettava Civitanova sciopero all'istituto Bonifazi Corridoni mille studenti in corteo vogliamo essere ascoltati di più pensate erano oltre mille quindi praticamente tutto l'istituto la preside ha incontrato una delegazione di loro per cercare appunto di capire le ragioni conoscere le istanze di questi giovani marchigiani sotto il Made in Marche unico e da tutelare al teatro di Civitanova gremito per il forum del quotidiano nazionale Carlino un appuntamento importante al quale ha partecipato anche il presidente della regione Francesco Acquaroli scorgo il volto del presidente della camera di commercio delle Marche Gino Sabatini più a destra invece il sindaco Ciara Pica imprenditori mondo del credit istituzioni concordi sulla necessità di fare e di puntare sulla sostenibilità affinché il distretto della moda resti competitivo nei mercati internazionali poi una notizia di sanità che sicuramente vi devo mostrare tumori alla prostata l'ospedale ottiene il bollino azzurro che appunto significa molto per questo territorio più avanti andremo anche a vederne qualcosa nel dettaglio la cronaca in questo caso violentato e ricattato da un terzetto rinviato a giudizio un pakistano altri due connazionali sono già stati condannati i vostri messaggi in questo caso ci hanno chiesto se il malvivente che ha rapinato la ragazzina al piano nonostante sia un pluri pregiudicato è stato solo rimproverato e già per strada pronto a rimproverare anzi a rapinare ovviamente qualcun altro mi sembra che qualcosa non funzioni naturalmente non possiamo essere certi di questo che ci sta dicendo ma comunque recepiamo questo messaggio che ci ha inviato questo nostro ascoltatore in merito al fatto di cronaca che vi stavamo mostrando per quanto riguarda Ancona volevo approfondire un attimo la notizia da Civitanova mentre vado con voi ad aprire il carlino di macerata lo faccio subito non appena il nostro desk sarà pronto andiamo a vedere di che cosa si tratta per quanto riguarda la news in ambito sanitario ecco qua che scorriamo sul giornale e raggiungiamo la pagina dedicata per quanto riguarda il resto del carlino eccola qua lo facciamo insieme premiato l'ospedale provinciale bollino azzurro per la cura del tumore alla prostata sottolineato l'approccio interdisciplinare professionale nei percorsi diagnostici e terapeutici scaloni ridotti gli accessi impropri al punto soccorso servi presa in carico precoce del paziente non un caso che insomma questo riconoscimento possa arrivare anche in prossimità del fine settimana in cui l'AIRC l'associazione che lotta appunto contro il cancro sarà presente in tante piazze delle marche per vendere i cioccolatini della ricerca se riuscite fateci un salto mi piaceva ricordarvi questo appuntamento rapidamente corriere adriatico di Pesaro e resto del carlino per poi chiudere anche questo blocco ricorsa per Villa Caprile nuova vita per i giardini storici giochi d'acqua il progettista chiede alla provincia di accelerare Giangolini bisogna riuscire a far convivere il cantiere con le esigenze della scuola e del turismo poi sotto la foto dei vigili del fuoco e dei soccorritori impegnati per estrarre dal velivolo precipitato nel greto del fiume Cesano due persone che sono state estratte vive per miracolo si sono salvate dopo anche l'intervento dei vigili del fuoco una era riuscita ad uscire l'altra invece era incastrata poi la notizia di cronaca che vi mostro è questa lui è solo mio 7000 telefonate agguati e minacce dunque un altro caso di stalking di fatto a Pesaro palpeggia ragazzina ma nega tutto lo inchioda però la spica e poi questa news che arriva da Urbino l'omicida è infermo di mente deve andare in una rems uccise la cognata la richiesta della procura per il perito era incapace di intendere e di volere Andrea Marchionni è stato giudicato incapace di intendere di volere ricordate questa notizia la PM ieri ha richiesto il trasferimento dal carcere a una residenza per malati psichiatrici il caso riguarda il delitto di Martina Luzia a Fossombrone uccisa a sangue freddo nel luglio scorso sull'uscio di casa dal cognato penso che insomma vi ricordiate di questo fatto di cronaca che aveva davvero creato molto sgomento in tutta la regione condannato il palpeggiatore seriale a un 51 anni che prendeva di mira le ragazzine è stato inchiodato dalle spycam dovrà scontare due anni di appunto pena poi sotto l'ultraleggero altre notizie di cronaca la stalker guarita dopo il percorso ora sono un'altra donna si è anche raccontata dopo quello che aveva fatto ovvero aveva perseguitato l'ex marito poi pericolo fuga taglio delle pensioni il primario ci sto pensando qui notizia che arriva dall'ospedale e la storia che vi abbiamo mostrato legata all'ancisi dove hanno operato questo paziente al cuore dopo un infarto facendolo pedalare e camminare era un uomo di pesaro ecco perché la ritroviamo anche su queste colonne del Carlino sui quotidiani nazionali l'apertura è dedicata purtroppo alla guerra Repubblica esercito israele Hamas ha perso il controllo della striscia di Gaza attacco USA a un sito di filo iraniani in Siria pardon questa è la prima pagina di Repubblica la notizia che vi stavo mostrando per quanto riguarda invece la stampa anche in questo caso si torna a parlare della guerra Russia-Ucraina lui apre la porta a Kiev l'allargamento è strategico non solo il conflitto in Medio Oriente questo è molto altro nella nostra rassegna stampa di ETV che continua state con noi rimanete in nostra compagnia sapete dove iniziano gli allenamenti della nazionale? in cucina grazie a tutti grazie a tutti